salve ragazzi benvenuti in una nuova puntata qua sul canale di studio noisys come promesso vi ho portato quello che voi mi avete detto di portare cioè il nostro amato setup su nice su friedrich nice e autore estremamente importante lo tratteremo tra un po non lo so chi lo sa ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale accendete la campanella perché vi arriveranno tutte le notifiche potrete stare informati e in questa nuova stagione non sarete voi non sarò io a scegliere il programma ma sarete voi ad indicarmi i filosofi che volete che io porti quindi questo ti potrebbe tornare utilissimo perché potremmo anticipare degli autori che altrimenti sarebbero potrebbero scorrere molto avanti nel tempo io posso farli immediatamente come sto facendo per max weber come sto facendo oggi per il setup di nice che ragazzi mi è costato una fatica incredibile perché io qua in libreria ho tanti libri su nice ma volevo un setup veramente veramente accurato quindi sono andato veramente a scegliere anche dei libri nelle biblioteche ho girato veramente tanto per diciamo arrivare con il succo con l'essenziale per potervi dare il meglio della filosofia niciana e un setup il più appropriato possibile quindi mi raccomando guarda il video fino in fondo perché adesso partiremo con la creme cioè quali sono le opere veramente di nice da comprare ma bisogna fare una premessa prima di iniziare a vedere ogni singola opera perché è importante costruire la nostra libreria intorno a quest'autore un autore essenziale se ci piace la filosofia un autore fondamentale imprescindibile ma mi raccomando un autore che va studiato soprattutto sui testi secondari io ve ne indicherò alcuni e ogni filosofo si è scontrato con nice dopo nice ogni storico della filosofia si scontra con nice nice è un autore imprescindibile di una importanza fondamentale per per tutti non c'è pensatore letterato poeta che non si sia scontrato con questo filosofo e quindi veramente bisogna stare attenti io non vi indicherò semplicemente titolo e autore vi indicherò delle sezioni su cui andare a costruire poi potete scrivermi potete chiedermi consiglio ho visto questa opera ho visto quest'altra mi mandate l'indice io danno un occhio all'indice del libro di riuscirò a dire senz'altro e mandatemelo in chat o su youtube eccetera o per mail che la trovate nelle sezioni informazioni del mio canale vi posso aiutare ma ora vando alle ciance e andiamo sul nostro tavolo dove vediamo e qua sopra potete già vedere una serie di libri ma non volevo spoilerarvi nulla quindi vediamo già che cosa le opere fondamentali di nice da avere perché cosa da premettere dice scritto tantissimo chi si è occupato dell'opera omnia di nice è stata niente che poco di meno della adelfi che ha creato sia l'edizione economica che tutti conosciamo tutti nella vita abbiamo visto almeno una volta che quella gialla e tascabile eccetera ma per chi amasse veramente la filosofia di nice alla delfi penso che continui ancora a farlo però si deve contattare direttamente la casa editrice perché non si trovano nelle librerie ma sono dei formati che solitamente vengono resi disponibili per le libri per le biblioteche o comunque per delle grandi realtà ci sono dei testi estremamente raffinati pubblicati da delfi che sono questi questi sono dei libri estremamente di qualità copertina rigida carta pergaminata intonsi quindi con pagine da tagliare con il tagliacarte insomma un'edizione questa è un'edizione veramente deluxe io ho molte opere in questa edizione però ovviamente di tutto ciò che vedrete oggi è disponibile sia nella versione deluxe che nella versione economica quindi io vi faccio vedere delle opere dal prezzo molto elevato però voi potete trovarlo anche nelle edizioni economica io vi vi dico state sempre attenti perché io penso che a delfi ancora continui a pubblicare in fascicoletti se non hai mai visto il mio video sulla differenza tra libri in fascicoletti e libri in brossura ti lascio qua la card da qualche parte e la lascio anche sotto nei commenti vattene a vedere perché questo è fondamentale per capire se il libro che abbiamo comprato ci durerà per tanti anni oppure dopo un po di anni si sbrinciolerà nelle nostre mani quindi vattene a guardare e io penso che tutti i libri a delfi anche quelli economici siano fatti in maniera tale da essere estremamente durevoli nel tempo ma state attenti perché a delfi come tantissime altre case editrici potrebbe aver iniziato a stampare in brossura detto ciò quali opere io consiglio di di nice beh iniziamo da un'opera classica della gioventù di nice che è quello sulla nascita della tragedia questa è un'opera che nasce come un'opera di filologia e qui abbiamo addirittura due opere che è la nascita della tragedia e considerazioni inattuali che sono tre saggi scritti da nice il numero vedete qua numero dal numero primo al numero terzo quindi considerazioni inattuali primo secondo e terzo cos'è che della nascita della tragedia importante è la prima opera filosofica che consacra nice da filologo perché lui aveva degli studi di da filologo non nasce come filosofo a filosofo infatti nasce dalla tragedia un'opera che filologicamente viene massacrata anche da grandi filologi come villamovitz tanto che nice viene considerato un filologo veramente di bassissima lega ma lo consacra al mondo filosofico tanto che oggi la nascita della tragedia non viene tanto considerata per il suo valore filologico ma per il suo valore filosofico tanto che da lì nascono le famose categorie niciane del deonesiaco dell'apollineo che connoteranno tutta la filosofia successiva di friedrich nietzsche benissimo quindi questa è la prima opera da mettere un attimo da conto poi che cosa vi consiglio beh l'imprescindibilissimo non l'imprescindibilissimo non me li dico in ordine cronologico perché sinceramente non mi ricordo le tecnologie tutto ma è andiamo subito a vedere sul tavolino eccolo qua così parlò zaratustra un'opera cardine sicuramente ve lo stavate aspettando e anche questa la potete trovare sia in un formato deluxe come questo tutto in un unico opera oppure in due volumi in due volumi economici che giusto per farvi vedere ve li mostro questi sono i due volumi economici di così parlò zaratustra potete scegliere voi quale quale prendere ecco magari state attenti perché tra il pagare due economica o trovarne un'edizione usata in deluxe magari spendete uguale e io vi consiglio perché questa edizione così di pregio è veramente veramente una sgoduria e benissimo quindi così parlò zaratustra adesso andiamo a un altro un altro best seller della filosofia niciana che cosa è che cosa sarà mai beh al di là del bene e del male che nell'edizione deluxe non so se anche nell'edizione economica trovati insieme a genealogia della morale che male non fa perché è una grandissima opera anche questa la filosofia niciana altra opera da valutare da considerare che si può trovare sia in edizione economica che in edizione deluxe io continuo a ripeterlo perché poi mi dite ah ma non riesco a trovare il libro che hai consigliato beh perché questo è un'edizione che ripetiamo si trova solo su richiesta da casa editrice o solo sull'usato mentre sul portale non so feltrinelli ibs e amazon eccetera trovate solitamente solo le edizioni economiche benissimo altra opera imprescindibile che io questa volta non posseggo in edizione deluxe è in due volumi l'opera umano troppo umano un'opera enorme penso di svariate centinaia di pagina ma estremamente estremamente importante per capire il pensiero di niccia e tutti coloro che hanno avuto a che fare con niccia sono trovati a scontrarsi con questa opera benissimo ultima invece opera che mi permetto di consigliarvi che io ho preparato a bologna e pensavo ad aurora pensavo ad altre opere eccetera ma invece alla fine ho deciso per quest'ultima opera di friedrich niccia di consigliarvi questa edizione deluxe la gaia scienza un'opera particolare ma fondamentale nel itinerario filosofico di niccia perché ragazzi niccia non è che è un pensatore che ha strutturato un po come canta che ha strutturato per tutta la sua vita un unico sistema filosofico o come per hegel ma è un filosofo che ha visto un'evoluzione della sua filosofia in concomitanza con alcune fasi fondamentali della sua vita quindi la gaia scienza è una di queste fasi cioè è il niccia scientista è il niccia che prova ad approcciarsi alla scienza per poi averne un rifiuto quasi totale potremmo dire quindi è molto interessante e io l'ho preparata all'università nel mio percorso di estetica a bologna e quindi mi è rimasta un'opera molto molto bella adesso ce ne sono varie edizioni c'è un'edizione molto fatta molto bene che oggi non vi consiglierò ma pubblicata dai naudi e commentata da gentili che era che è stato mio prof all'università e anche quella se volete affrontare nello specifico quest'opera è molto molto è fatta molto molto bene ma perché prima di passare alla letteratura secondaria quindi queste sono le opere principali ma ragazzi non ce ne facciamo niente cioè è inutile che io vi dica ragazzi compratevi e 6.000 pagine dell'opera nicciana e leggete dalla prima l'ultima pagina sapete che io non lo faccio non lo farò mai perché la filosofia o si hanno delle brave guide che sanno introdurti al pensiero per questo ci sono o i maestri l'università oppure una buona lettura secondaria o sta roba qua è carta straccia perché la leggiamo e non capiamo assolutamente niente quindi alla fine io vi dico perché vi consiglio solo le edizioni ad elfi e non faccio come mio solito che vi consiglio 6.000 cose 6.000 cose diverse molto semplicemente per una ragione perché per quanto riguarda ad elfi i due curatori che noi che si conoscono sicuramente li avrete sentiti perché sono i curatori di tutta la edizione gialla di ad elfi sono giorgio colli e mazzino mazzino montinari non vorrei non vorrei sbagliarsi mazzino montinari benissimo loro due sono coloro non solo che hanno portato nice in italia ma che fatto l'hanno fatto riscoprire al mondo perché nell'ondata potremmo dire post bellica nice era considerato un pensatore nazista quindi rischiava l'ostracismo molti archivi erano erano un autore che si era sparpagliato per il mondo tedesco diviso tra mondo 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 liberale mondo comunista eccetera e nice rischiava l'ostracismo rischiava di essere tra virgolette bannato per un termine moderno giorgio colli mazzino montinari pensatori tra l'altro legati alla sinistra hanno avuto il grande merito di riscoprire un pensatore che ha rischiato davvero l'estinzione di tradurlo di farlo conoscere in italia e poi gradualmente di averlo fatto riscoprire al mondo la storia di come è stato riscoperto nice da questi due grandi pensatori è veramente veramente molto interessante vi consiglio di andarvi a leggere qualcosa ecco perché ancora io oggi sono molto legato perché c'è una tradizione legata a questi due pensatori giorgio colli tra l'altro un pensatore che sfiorò il misticismo o dell'ognosticismo e per certi aspetti nonostante sia un critico di nice ma è molto molto legato per certe per certe sue forme espressive a quella che è la filosofia niciana mazzino montinari più un pensatore più impostato a virgolette più classico del termine è molto interessante perché a questi due pensatori italiani si deve un po la riscoperta del pensiero niciano nel mondo ma detto ciao non perdiamo altro tempo e torniamo sul nostro tavolo da lavoro che cosa io vi propongo per continuare a parlare per continuare ad approfondire in letteratura secondaria il discorso su su nice allora avevo qua con me delle delle opere di introduzione al pensiero eccole qua di introduzione al pensiero vediamo ecco di introduzione al pensiero di nice sono tre opere non è tanto perché io come vi consiglierò tra pochi istanti non consiglio tanto il classico manualone no per studiarsi la filosofia di nice c'è ve li consiglierò ma in uno stato iniziale vi consiglio di affiancare un'opera generale anche snella non troppo mattone a una biografia di cui parlerò tra poco che opere ci sono beh c'è la classica introduzione la terza io ho qua con me solo quella specifica che è fatta da gherardo golini sulla nascita della tragedia quindi l'opera diciamo che ha che ha iniziato nice alla filosofia è un'opera del nice giovane è un'opera fondamentale perché lì nasce l'idea di appollino e di dionisia guidano tutta la filosofia di nice negli anni successivi e c'è quest'opera che è un'opera classica non ormai li conosciamo i volumi arancioni la terza e mi direte ma perché non hai consigliato anche l'introduzione generale a nice che tra l'altro è fatta da vattimo sempre di la terza nei nei manualetti arancioni fatti così perché me la sono dimenticata pensavo per libreria nella mia libreria in verità non ce l'ho e ho altre introduzioni e non mi sono dimenticata di prenderla in in biblioteca quindi io vi consiglio comunque di prendere anche quella piccolina sunice fatta da vattimo che adesso che ho scoperto mi manca sicuramente mi metterò in cerca perché non so neanche se è più disponibile ebbene no ebbene no l'opera fortunatamente ce l'ho con me tra l'altro è ancora in produzione quindi super consigliata l'avevo anche preparata per un esame infatti l'avevo in un'altra zona della libreria che non mi non mi ricordavo la vera quindi assolutamente consigliata ma adesso torniamo al video comunque se la trovo su amazon ve la linko qua sotto ovviamente tutti i libri che io vi sto elencando ve li metterò qua sotto in descrizione se volete comprarli da lì a volte guardateci perché metto anche delle offerte amazon non sul libro che trovate in tante copie ma a volte ce n'è solo una copia disponibile quindi se voi la comprate dal mio link vi beccate l'unica magari l'ultima copia disponibile pagandola il prezzo di vestito altra opera molto interessante di introduzione al pensiero di nice è questa guida ai filosofi di guida ai filosofi fatte dalla terza no sempre dalla terza ma sono guida ai filosofi non quelle arancioni che troviamo così questa nell'edizione arancione c'è l'introduzione di vattimo qua troviamo l'introduzione di ferraris opera molto molto buona tra tra parentesi c'è un aneddoto molto interessante su questa copertina spiegata dallo stesso ferraris in un caffè filosofico che questo non è nice è non mi ricordo se un rai d'italia o qualcuno è legato a qualche famiglia regale italiana ma cercando su internet l'editore si è sbagliato ha trovato questa foto pensava fosse nice poi è andato a controllare una volta che il volume era già stato stampato e si è accorto che non era non era nice quindi cosa carina cosa curiosa cosa simpatica questa è un'opera comunque consistente di un 300 pagine volevo andare a vedere se troviamo l'indice che a questo punto penso sia all'inizio andiamo subito a vedere no non è all'inizio non è alla fine altra cosa che mi permetterà di consigliere a casa editrice mettete l'indice quando possibile ove possibile all'inizio è molto molto più comodo o perlomeno alla fine fine del volume perché sennò bisogna sempre andare a cercarlo in mezzo al volume ma andiamo un attimo qua vediamo se si vede ecco provo a farvelo vedere che struttura ha il nostro il nostro volume non so se metta fuoco comunque fidatevi di me e io vi leggerò le cose importanti qua troviamo una piccola biografia vite opera fortuna qua troviamo un suddivisione per argomenti etica e politica filologia musica perché c'ha avuto una relazione con una relazione amicale con wagner che ha ispirato tanto della sua filosofia ontologia e la questione dei dei testi eccetera 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 quindi forma molto molto classica di testo non c'è nulla di entusiasmante diciamo molto classica sono quelli per mettere le basi quindi se non se non sappiamo se stiamo un po' brancolando nel buio nasce dalla tragedia introduzione al pensiero di un'opera che ci introduce al pensiero più generale inice opera più consistente generale per argomenti su nice fatta da maurizio ferraris docente dell'università di torino molto preparato oppure opera più snella più piccolina più mirata ma molto molto interessante sto parlando di giorgio colli scritti su nice una raccolta di saggi fatta da giorgio colli ripetiamolo quello che ha curato tutta la riscoperta del pensiero niciano in italia molto interessante perché perché se trovo l'indice quindi ci rimettiamo a cercare l'indice che questa volta forse questa volta ovviamente l'ha messo all'inizio andiamo a dare un occhio sempre al tavolo molto interessante perché sono gli saggi che ripercorrono tutto l'itinerario delle opere di nice quindi le opere che abbiamo comprato magari che avveniamo in libreria quindi è utilissimo perché se vogliamo affrontare un'opera nello specifico abbiamo qualche saggio che ci aiuta è un saggio su mano troppo umano parte 1 un saggio su mano parte umano troppo umano parte 2 un saggio su aurora che io non vi ho consigliato ma è un'opera importante al di là del bene del male due saggi due saggi su così parlo zaratustra eccetera eccetera quindi la nascita un saggio sulla nascita della tragedia quindi abbiamo potremmo dire una serie di operette di saggi su tutte le ciascuna opera quindi come comunque come introduzione al pensiero delle singole opere su nice è molto interessante io ve lo consiglio bene torniamo sul nostro tavolo questo queste erano le opere introduttive ma perché ho parlato di biografia perché la biografia di nice è estremamente interessante noi sappiamo bene che nice impazzì finì i suoi giorni in manicomio ci sono qualche video inquietante su youtube che riprendono gli ultimi istanti della vita di nice gli ultimi giorni della vita di nice in manicomio cioè tutta la filosofia e jung ha scritto qualcosa su nice e mi sono dimenticato devo essere sincero di jung perché nelle in una raccolta di saggi che vi rinco qua sotto di sicuro jung parla della filosofia di nice me lo ricordo perché diedi proprio un esame su questo argomento interessantissimo perché jung psicanalizzava la figura di nice e verificava come ci sia un doppio legame che stringe la vita di nice alla sua filosofia quindi è una forma di filosofia esistenzialista quella niciana no è un nichilismo che travalica e che si lega a doppio filo con la sua vita molti filosofi provano a negare ciò ma io ne sono convintissimo e seguo l'interpretazione di tutti quei filosofi invece che sostengono che tra la vita di nice e la sua filosofia ci sia un legame fondamentale ed ecco perché ho voluto darvi una serie di biografie che sono dal mio punto di vista più utile di qualsiasi manuale prettamente filosofico nella comprensione della filosofia di nice però tenetevi forte perché adesso li andremo un attimo ad analizzare ma tenetevi forte perché sono delle belle bestione allora partiamo da quelli meno meno tecnici ma che dal mio punto di vista siamo già a 21 minuti proviamo a snellire sono esseramente importanti vita di nice di lui andrè salome non so se sapete chi è questa donna del 1800 contemporanei nice che ha conosciuto nice che nice ha amato probabilmente e che che ha affascinato perché salome affascinò tantissimi intellettuali della sua opera salome ha conosciuto freud e ha conosciuto rilke ha conosciuto lo stesso nice e faceva innamorare tutti questi filosofi e se non ricordo male nice deve essere stato anche rifiutato da salome si deve essere dichiarato salome deve averlo rifiutato deve aver mandato quel paese nice e si è scritto una vita su nice molto interessante perché ovviamente non è qualcosa di tecnico è una pensa un pensatore salome un filosofo che parla di un altro filosofo ma potrebbe essere un'ottima opera d'approfondimento qui abbiamo invece questo ve lo dico perché ce l'avevo in libreria ed effettivamente abbastanza affascinante nice nei ricordi delle testimonianze dei contemporanei un po' ambiguo perché non si capisce bene se i nostri contemporanei o i contemporanei di nice ma sono i contemporanei di nice capiamo che ricostruisce quindi questa è una ricostruzione di tutta la sua vita attraverso gli occhi degli altri che hanno visto nice quindi attraverso uno sguardo se vogliamo più oggettivo probabilmente meno scientifico ma se ci appassioniamo alla vita di nice in questa immagine era già pazzo è stato questa immagine è stata presa dal manicomio penso se non sbaglio in questa in questo in quest'opera abbiamo tante testimonianze che ci parlano di nice da parte dei suoi contemporanei ora arriviamo a due biografie che sono un po' storiche nello scenario e nell'immaginario c'è la prima biografia e qua mi sento di andare di appoggiarmi qua sul tavolo perché nella prima biografia abbiamo Domenico lo surdo fatto da un italiano questa biografia si chiama nice il ribelle aristocratico biografia intellettuale e bilancio critico dal mio punto di vista è molto interessante perché è una biografia veramente corposissima ci stiamo parlando veramente in un manuale da più di mille pagine tra l'altro nelle nuove edizioni che vi linko qua sotto il manuale è stato diviso in due ma dovrebbero comunque vendervelo insieme sicuramente diviso in due è più pratico io dispero qua di trovare l'indice dell'opera comunque ve lo volevo far vedere ve lo farò vedere un'altra volta perché direi che sia praticamente impossibile trovarlo anche qui l'abbiamo all'inizio eccolo qua abbiamo all'inizio ovviamente benissimo nice il ribello aristocratico qua abbiamo veramente uno smembramento non solo della vita di nice ma anche della sua filosofia la crisi della civiltà da socrate alla comune di parigi la tradizione il mito la critica della rivoluzione la fondazione del secondo reich dall'ebraismo di socrate all'ebraismo di strauss nice nel suo tempo quattro successivi approcci della critica della rivoluzione cioè perché io vi leggo tutti questi poi va avanti cioè guardate solo la ricchezza cinque parti la ricchezza di tutto questo di tutto questo questo ben di dio ecco quest'opera è estremamente interessante perché ci dà un approccio estremamente scientifico tecnico filosofico un'analisi approfondita e accademica allo stesso tempo quindi se vogliamo un'unica opera alla modica cifra di 60-70 euro ma per l'opera che dal mio punto di vista ci sta tutta un'opera con cui abbracciare completamente la filosofia di nice investimento su queste opere e una biografia di questo tipo possiamo davvero davvero avere dopo una certezza una solidità in affrontare l'argomento nice che ci permette di spaziare di possedere quel filosofo ma questa potremmo dire è la prima biografia adesso ne ho un'altra e possiamo dire che questa è la parte snella la biografia sintetica perché ritorno abbiamo un'altra biografia un'altra biografia vita di nice di Kurt Paul Jans penso se è tedesco come presumo dal nome dovrebbe essere Jans vita di nice editori la terza ma voi mi potrete dire ma come snella più o meno sono uguali anzi probabilmente l'opera di lo surdo conta più pagine effettivamente conta più pagine questo conta solo 800 pagine questo ne conta ne conta più di 1000 ma Jans non si è non si è voluto fermare a un volume ma ne ha fatti due e non solo ne ha fatti due ma ebbensì è arrivato a farne tre Jans ha fatto tre volumi questa è una biografia di più di 2000 pagine che ripercorre tutta la vita di nice probabilmente ripercorre anche fatti di cui nice non era al corrente di aver fatto di aver compiuto perché penso che una biografia del genere io non l'ho mai vista come potete vedere io queste biografie le ho prese in biblioteca ma quando ne avrò l'occasione sicuramente quella di lo surdo penso di prenderla sicuramente quella di Jans non lo so ma a chi la consiglio quella di Jans perché dico non lo so perché 2000 pagine di biografie sono davvero davvero tante ma paradossalmente se no che Jans non è un filosofo di professione ma è un musicista è un musicista ed è un musicista che si è affezionato si è affezionato a a nice mi piaceva tantissimo si è dedicato alla stesura di una biografia su nice quindi sebbene non l'abbia letto se non ha sprazzi per preparare questa puntata per effettivamente verificare se fosse un contenuto valido vi consegno perché quando ho letto scritto da musicista mi è venuta la pelle d'occhio poi ho visto che è pubblicata dalla terza è stata pubblicata dalla terza ed è stata ripubblicata da una piccola casa editrice in questi anni link sempre in descrizione ho approfondito è una biografia a giudicare dall'indice da quello che ho potuto leggere più biografica meno filosofica meno accademica meno contorta ma che comunque non risparmia il fatto di scendere nell'opera ne scendere nel pensiero ne scendere nella filosofia di inizio quindi dal mio punto di vista è estremamente valida soprattutto per chi magari non ha una formazione filosofica o anche non ricerca una un'opera di formazione filosofica ma vuole un approccio più easy più slim più tranquillo tranquillo per modo di dire stiamo parlando di duemila pagine ma duemila pagine che hanno sicuramente un approccio narrativo più solido quindi sì voglio conoscere tutto di quest'autore perché ho una passione sfrenata però magari non sono un filosofo di professione non sono e non mi piace approcciarmi a un'opera troppo accademica troppo cavillosa troppo scientifica come l'opera di Lo Surdo che mette in relazione la filosofia di Nietzsche con tutto il contesto politico prima e dopo la sua nascita la sua morte e le guerre mondiali i concetti di rivoluzione eccetera eccetera janz quello andate sicuri andate tranquilli una lettura da duemila pagine ci si metterà un annetto più o meno a arrivarci a capo ma dopo sicuramente potete dire Nietzsche lo possiedo e lo possiede forse meglio di chi si affida troppo tra virgolette a una lettura troppo accademica ricordiamo che Nietzsche detestava l'accademia e qui io finirei la puntata di oggi vi consiglio solo alcuni titoli che poi vi andrete a vedere voi se vi piacciono se non vi piacciono non lo so c'è da dire una cosa Nietzsche è stato analizzato è stato studiato e ci siano confrontati tutti i più grandi filosofi della modernità che sono venuti dopo di lui quindi non potevo non consigliarvi qualche opera io non ve ne parlo perché ormai siamo giunti veramente al limite con questo video ve le andate a vedere voi se vi incuriosiscono c'è un'opera del filosofo Karlovit Nietzsche e l'eterno ritorno dove spiega proprio questo concetto va a fondo di uno dei concetti fondamentali della filosofia niciana di Karlovit molto specifico ma estremamente interessante tra l'altro un'opera neanche troppo consistente altra opera se vi interessa invece il rapporto tra Nietzsche e il cristianesimo sappiamo che non andavano troppo d'accordo interessantissima una raccolta di saggi di René Girard e del suo amico Giuseppe Fornari il caso Nietzsche la ribellione fallita dell'anticristo quindi una lettura particolarissima io sicuramente un'opera che in un panorama quello italiano che è inondato di nichilismo di falso nichilismo più ne mette di nicholismo vorghese quest'opera mi è sinceramente incuriosita molto più di tante altre perché è più va al centro della ferita vera quindi la relazione Nietzsche e cristianesimo fatta da un grandissimo filosofo e da fornare anche lui che non è da me ecco altra opera che io molto tecnica è la filosofia di Nietzsche questo guardatevelo insieme all'altra opera Gilles Deleuze Nietzsche prodotta dall'editore S.E. operetta molto snella ovviamente sono filosofi che ripetiamolo sempre solitamente il filosofo che commenta il filosofo non è che ti fa una panoramica quindi bisogna già essere non solo esperti di Nietzsche ma essere magari esperti di quel filosofo nello specifico perché rischia quello di non capire niente perché Deleuze Lugirard eccetera o altre due opere imprescindibili il Nietzsche di Heidegger una delle opere fondamentali questa una delle opere fondamentali questa non perdetevela il Nietzsche di Martin Heidegger che è stato fondamentale per costruire la stessa idea di filosofia heidegariana un confronto incredibile che consta più di 800 pagine ecco e poi invece un'opera più accademica Carl Jasper Nietzsche introduzione alla comprensione della sua filosofare questo tra tutti questi testi probabilmente quello di Jasper è quello che vi consiglierei di più se siete alle prime armi vi prendete un bel manuale generale lo affiancate al Nietzsche di Carl Jasper per non perdere le cose però questo è più un'idea Jasper aveva già un'idea un'impronta più accademica quindi darti un'impronta una visione più accademica mentre quello di Nietzsche di Nietzsche di Heidegar prendetelo se siete veramente tanto appassionati di Heidegar che di Nietzsche perché è un'opera in cui Heidegar parla di se stesso parla del suo pensiero parla della sua filosofia e utilizza Nietzsche più come un pretesto è come il medico in obitorio che analizza il cadavere più per mostrare la sua la sua la sua abilità nell'assezionare un cadavere più che del mostrare quanto è bello il cadavere in sé paragono un po' Marco benissimo io qua ho finito c'è tutta una serie di opere che io adesso non vi tiro fuori che sono opere estremamente tecniche scritte da pensatori italiani mi viene in mente vattimo e che lì però siamo a un livello che non vi servirebbe tra virgolette il mio il mio setup nel senso che siamo a un livello accademico siamo a un livello in cui parliamo di persone che nella vita studiano Nice opere estremamente complesse innervate e nate all'interno di contesti accademici particolari appartenenti agli anni 80 90 per dirne una qui abbiamo qualche titolo abbiamo Antimo Antimo Negri grandissimo filosofo accademico italiano Nice nella pianura gli uomini e la città qui abbiamo Gianni Vattimo già citato per l'introduzione a Nice ecco Gianni Vattimo ha scritto anche Nice il problema della liberazione il soggetto e la maschera se io vi leggo l'indice di quest'opera vi viene probabilmente un attacco epilettico un indice in cui già dall'indice capite che non si capirà niente nel corso del libro un'altra opera estremamente interessante ma molto specifica è Nice e il circolo vizioso di Pierre Klosowski spero aver pronunciato bene perché poi dopo mi contestate giustamente nei commenti mi contestate la mia pessima pronuncia in tutto ciò che non sia o italiano o inglese e un'altra opera ad esempio è lo scriva del caos molto famosa di Ferruccio Masini interpretazione di Nice quindi qui non stiamo più parlando di spiegare Nice qui stiamo parlando di interpretare il pensiero di Nice quindi è già una cosa molto avanzata molto pro io di tutti i titoli che vi ho detto di quelli ancora in commercio ti metto il link qua sotto ovviamente se ti è piaciuta la puntata scusatemi ma di meno non riuscivo a fare avevo tantissimi libri da presentarvi e anche su come usarli un po' iscriviti al canale e fammi sapere nel sondaggio nei commenti qual è il prossimo setup che tu vuoi conoscere noi ci sentiamo alla prossima puntata intanto grazie mille e io ti ringrazio grazie mille grazie mille